Buonasera a tutti, prendiamo posto e ci prepariamo ad iniziare la sessione pomeridiana del nostro incontro. Vi ricordo i canali per le traduzioni, per quanti hanno le radioline sul telefono o le radioline che si possono sintonizzare. L'italiano al canale 88.7, l'inglese al canale 95.2, il francese al canale 97, lo spagnolo al canale 101.3, il portoghese canale 106. E mentre ci prepariamo ad avviare, invito i relatori di questa mattina a prendere posto al tavolo della Presidenza. Grazie. Avremo un pomeriggio abbastanza complesso, ma cercheremo di andare fino in fondo. Nella prima parte, il nostro pomeriggio è dedicato al colloquio che relazionerà l'assemblea con i relatori, per aprire ulteriori spazi di riflessione e di applicazione concreta. La parola a chi pone la domanda. La prima domanda è per padre Christophe Theobald, in italiano. Lei ha ricordato che la promessa di Cristo, io sarò con voi fino alla fine del mondo, è rivolta alla Chiesa e non alla vita consacrata in quanto tale. Come articolare queste parole con la convinzione di San Giovanni Paolo II, espressa anche nell'esortazione apostolica Vita Consacrata, che la vita consacrata appartiene alla santità della Chiesa e non potrà mai mancare alla sua vita, come suo elemento irrinunciabile e qualificante in quanto espressivo della sua stessa natura? Grazie mille per la domanda. Grazie mille per la domanda. Grazie mille per l'excellente question. Ma formule è stata un po' provocante, perché ovviamente il faut mantenere che il nostro Signore sarà con l'Eglise fino alla fine del tempo. C'è stata l'affirmazione principale. Ensuite, il me sembra che la vita consacrata ha connu tant di formi diversi a travers, je dirais a partir del IVe siècle, se si l'on regarde Saint Antoine e si l'on regarde Saint Basile, la naissance del scénobiettismo, Saint Benoît chez nous, plutôt en Europe. E quindi, il y a tutta questa arborescente, e questa arborescente che è essenziale. Ma c'è tale o tale branche che può tutto a fatto morire, perché il charismo che ha dato a un momento non ne corresponde più, direi, tutto a fatto alla situazione. Allora, ovviamente, dans son ensemble, la vita consacrata appartiene a ce che è più fondamentale in l'Eglise, c'è l'appel a la saintità. Io penso al capire 5 del Lumen Gentium, in mettendo questo capire in line con il primo capire su il misterio di l'Eglise, c'è il misterio di la saintità di Dio lui-même, trois fois saint, in nostro mondo, e come consacrata, noi cerchiamo di vivere questo. Ma ci sippose anche, io diria, una conscience molto humble che tale o tale gruppe, tale o tale persona, n'est qu'un elemento in un chenone, in questa arborescente immensa che ci sippose. E c'è questo che volevo dire, perché magari a l'heure attuale, la vita consacrata è molto molto approvata anche, direi, per le disparoci, per le miso in relazione, per le diffusione di diverse congregazioni e di gruppi, che l'art di dispostare fa parte della vita consacrata è stata un po' come il Cristo lui-même che dice nel discorso di Dio, c'è bene che che io mi fai, altrimenti l'Esprit-Saint non può venire. Buonas tardi. La domanda in spagnolo è per la madre Ignacia, Maria Ignacia. Poi le posso tradurre. Allora, in questo mondo dove il rumore e le distrazioni ci portano a un decentramento vitale dei valori, come si può iniziare una formazione al silenzio, alla orazione di intercessione nel silenzio, nella preghiera di intercessione e del salterio. Grazie. La parola alla Madre Angelini. Alle quattro pratiche che ho aggiunciato stamattina si aggiunge quella del silenzio. Lei ha aggiunto che io non avevo accenato come pratica, perché il silenzio è un'arte che attraversa tutte le pratiche nella vita cristiana, essendo strettamente legata all'ascolto. Nella esperienza spirituale cristiana il silenzio non è un valore in sé, ma è l'atteggiamento della persona che si mette nella condizione di ascoltare altri. E quindi attraversa tutte le pratiche. La formazione al silenzio è la formazione a rispettare profondamente la verità delle cose, di ogni realtà. E quindi la formazione al silenzio coinvolge tutta la pedagogia alla vita spirituale. non soltanto quella a tacere, ma anche quella nel modo di parlare o nel modo di cogliere i rumori, cogliere i suoni e cogliere le voci. Mentre comincio dall'ultima, la pratica, ho visto che non è stata citata la pratica alla lezione divina, che secondo me è quella fondamentale, e quindi la lascio tra parentesi anche se comunque è quella fondamentale, e a quello della celebrazione, che ritengo più originaria della... quando si parla di formazione alla preghiera, poiché la preghiera è la parola che risponde, o comunque è il movimento della risposta, per la quale c'è stato detto anche da padre Miguel, la precarietà interagisce con Dio e con l'altro, presuppone la capacità di ascolto e la capacità di leggere le scritture per conoscere il linguaggio di Dio. In un monastero la formazione alla preghiera è la formazione alla lezione divina, è la formazione alla celebrazione liturgica. E solo come conseguenze, come risonanza personale di queste due pratiche fondamentali è anche la formazione alla preghiera personale, a una interiorità dialogale, fondamentalmente dialogale. Quindi la domanda su come formare la preghiera la coniugo in questi tre momenti, di formare la persona e soprattutto il giovane che viene, che è un giovane o comunque il nuovo membro, perché adesso non sono più neanche tanto giovani, i nuovi membri che si accostano alla vita monastica sono abituati a un linguaggio di comunicazione piuttosto protagonista. Sono abituati ad avere sempre la prima parola e giustamente la cultura a cui appartengono è così, ha insegnato loro così. E quindi il primo passo della formazione è imparare all'ascolto, insegnare all'ascolto e quindi accogliere che la mia parola può nascere autenticamente solo come parola di risposta. E perciò ci vuole la capacità di togliersi, di farsi da parte rispetto a un certo protagonismo e lasciare sgorgare dentro di sé la sette di una parola, dimmi una parola. Questo è il primo passo che per accostare i padri del deserto doveva fare il discepolo, dimmi una parola che presuppone che io non ho parole. Come dice il Salmo, se tu non mi parli io sono come chi discende nella fossa. Dunque educare a convivere, a identificarsi con questa fame fondamentale di una parola che mi fa vivere. Questo è il primo passo per la formazione e al silenzio e alla preghiera. Accenno soltanto perché se no faremo un'altra conferenza. Mentre la pedagogia, la formazione, la preghiera di intercessione passa attraverso l'educazione a identificarsi sempre come relazione, mai come protagonista della storia. La storia ci trova sempre come già preceduti, preceduti da una generosità che ci genera, preceduti da una voce che ci chiama, preceduti da una povertà che ci interpella. L'intercessione è fondamentalmente l'assumere il ruolo di chi sta presso altri di fronte a Dio. Dunque non è, e certamente dopo, come ultima tappa, anche l'imparare un linguaggio per intercedere, che non può esprimersi mai cristianamente come un dire al Dio, fa questo perché questa cosa si risolva, ma ha la forma del colui che tu ami è malato, non hanno più vino. Ecco, imparare dalla lettura delle scritture il modo dell'intercessione, che non è un modo di parlare, ma prima di tutto un modo di essere, li avrebbe sterminati se Mosè non fosse stato sulla breccia di fronte a lui. Imparare dalle scritture il modo di stare in mezzo tra Dio e altri, questa è la pedagogia della intercessione. E questo poi ci porta all'ultima pratica enunciata da chi fa la domanda, non so chi sia, come la formazione al Salterio. Anticamente questa era la prima formazione del monaco, di chi accedeva alla vita consacrata. Imparare a memoria il Salterio. I monaci pacomiani per entrare in monastero dovevano sapere a memoria il Salterio e i Vangeli. Imparare a memoria il Salterio vuol dire sapere dire parole prima ancora di averle capite. Dire parole di preghiere di 3.000 anni fa per poter capire la preghiera che dentro di me è ancora afasica, non a voce. Entrare in un mondo di umanità che si è rapportato a Dio, fare corpo, come dice Shuraki, noi questo libro lo portiamo nelle viscere, prima ancora di averlo imparato a declinare. Quindi imparare il Salterio è un'opera delicatissima e impegnativa al massimo. Bisogna scontare i passi insormontabili che sono quelli di accogliere dentro di sé sentimenti che immediatamente non vengono dalla mia sensibilità. Sono portata a urlare quando io vorrei sussurrare, sono portata a cantare quando io vorrei piangere. Questa capacità di espropriarsi nel proprio piccolo mondo per ospitare generazioni e generazioni, questa è l'arte del Salterio che progressivamente entra nelle viscere. Cassiano dice che a un certo punto noi ci accorgiamo che il Salterio non è stato scritto da Davide o da chi per lui, ma realmente ci accorgiamo che il Salterio è stato scritto da noi. È la preghiera che esprime il proprio proprio di me, identificata come membro di un'umanità davanti a Dio. Ringraziamo la Madre Angelini e diamo spazio all'altra domanda. Buongiorno, questa domanda è per il Fr. Miguel. Could you please expound upon the role of discernment and spiritual direction in the life of the consecrated person with regard to personal discernment and guided discernment? Thank you. Io te la trago. Podrías hablar un po' più di più del papel del discernimento e della direzione espirituale in la vita di una persona consagrata? Dissernimento e direzione espirituale. È una domanda molto ampia in torno al papel del discernimento e della direzione espiritual in la vita consagrata. È come amplissima la domanda che mi propone. In principio, il discernimento è come una necessità fondamentale per qualcuno. Non si riferi solo a la formazione iniziale. Cualquiera di noi necessita discernimento. Decia Santa Teresa che non si fiava di sì e si passò la vita consultando, preguntando, pidendo che le contrastaran. Santa Teresa imaginava la amistad come un dialogo per aiutarsi a crecer in la verità. il discernimento che uno necessita perché uno non se dà la verità a sì stesso. Quindi è fondamentale in qualche etapa della vita in cui stiamo la necessità di ascoltare in la mirata, in la parola di altri. È fondamentale il dejarte iluminar. Questa humildad è necessaria perché molti volte pensiamo essere in la clarità o abbiamo sicurità, e non significa che stessi dando passos accertati. Quindi io credo che il discernimento è un elemento essenziale. Tamb'è San Ignacio e tutta la scuola jesuitica che ci ha regalato una sabidurà grande in questo senso. Necessitiamo il dejarnos discernir. Io credo che la vita consagrata sta in un momento in cui necessita questa humildad. Nosotros també aiutiamo a discernir. Escuchiamo a molta gente, però è fondamentale una escucha buona interior. E per una escucha buona di quello che succede dentro, fa falta la sincerità, la transparencia, la confianza, il non tener miedo a exponerse, a desnudar, a lo che incluso muchas veces nos da reparo o vergüenza. Hai momenti decisivi in la vita in cui quando una persona se atreve a dicere lo che le sta passando, è decisivo per la sua salvazione, o per che sia un punto seguido in la vita. ricordo la storia di una persona consagrada che cometì un errore, un errore grave che le costò su ministerio e parlava a sus compañeros sacerdotes e les decía pido perdón por aver pensato che io era capace di poter con quello che mi stava passando. No pido perdón por il errore che cometì, non explicava il errore, però pidió perdón per non averse deixato aiutar. il discernimento è un elemento fondamentale per tutti. Io sento che a mi mi fa falta questo discernimento. Io sono una persona che accompagna a hermanos, sono il provincial, però necessito che i miei in ogni etapa della vita. Che cosa tan bonita, che cosa tan hermosa che una persona tenga la edad che tenga, che sia sempre in una attitud di búsqueda, del deseo di crecer, come diciamo, di cada mattina preguntarle al Signore per dove vuoi dire che oggi mi vita ti serve. «Quiero, Signore, che tu sia il che mi insegnere in questo momento». «Hazla, Signore, che tu siervo scusa». Mi sembra tan hermoso che siamo persone che al levantarnos per la mattina le diciamo «Signore, qui sto». Non lo che sta nel horario, non lo che sta in tus constituzioni, non lo che ti dice la superiora o il superior, sino quello che non sta scritto, lo che ha fatto con il passo di Dio, dove oggi Dio ti va a sorprendere. Come la direzione spirituale ci aiuta a ascoltare interiormente la voce del Signore. In realtà, nostra consagrazione è ascoltare oggi, mi vocazione è oggi ascoltare che è quello che tu stai dicendo a mia vita. Ho oggi voglio ascoltare, Signore. Abre il mio oido, per favore. Destapone il oido per ascoltare, che questa è la mia vocazione. Grazie molto il Padre. E diamo spazio all'ultima domanda. Una domanda per il Père Christophe Theobaldi. Secondo, secondo voi, quels sono i punti di attenzione essenziali in l'apprentissaggio dell'art di morire? E, a contrario, i punti di attenzione in il discernimento dei nuovi carismi? Io penso che, la prima domanda, secondo voi, quels sono i punti di attenzione essenziali nell'apprentissaggio dell'art di morire? Io direi la prima cosa, c'è ovviamente la qualità un po' di sua propria vita spiritua che è qui in giù l'apprentissaggio difficile nel nostro esistente al giorno al giorno a travers gli esercizi gli esercizi in l'experienza della malattia del viellismo delle responsabilità che noi riceviamo e che noi non avremmo ne avremmo ne avremmo spontanamente e, voi vedi, c'è tutta questa richesse al fondo delle esperienze di vita che noi facciamo pleine di sorprisi c'è in tutto ciò apprende progressivemente voilà io ne sono qu'un membro di una congregazione che ha un proget che mi dipende io ne sono qu'un membro dell'ensemble della vita consacrata che dipende infinemente la congregazione a la quale io appartiamo è in breve l'apprentissaggio progressivo di l'immigità e poter questa l'immigità che non può che ricevere in essere progressivemente configurato al Cristo voilà io direi questo è per noi tutti l'encheo fondamentale dell'immigità consacrere, di ricevere e di scuovere che ci siamo entrati di ricevere in le face nocturne di nostra vita la santità anche di Cristo allora, ho insistito un po' questo mattino anche su la face collettiva ovviamente di queste esperienze, e noi deviamo senza cesse resitare le charismi di nos congregazioni, di nostri instituti di nostri gruppi di vita chrattina e di vita consacrere e nuvelle noi deviamo noi resitare per quanto riguarda l'ensemble del nuovo testamento e della grande tradizione di l'Eglise e là c'è un secondo aspect di l'art moriendi, di l'art, direi, di morire di meglio comprendere a quelle epoche e per quanto riguarda l'urgenza in l'Eglise e la società è née telle o tale congregazione e al fur e a mesur le urgenza in l'histoire ovviamente, direi, l'art di la deliberazione non, io penso che c'è Paul e Barnabé non, io penso che c'è il primo punto d'attention non, c'è c'è quindi il punto classico il più importante c'è dire c'è la vita di preghiere dei persone e all'interno di questo gruppo nuovo e c'è la lettura e l'art di scrittura e l'art di scrittura e è la questa confrontazione con la grande tradizione della vita consacrata e in terna ora con le scrittura che è il vero il risotto che è il vero allora ora, nella nuova generazione, un nuovo rapporto alla mixità. C'è un punto extremamente importante. Voi avete ovviamente delle congregazioni masculine, delle congregazioni femminine, delle instituzze masculin, delle instituzze femminine, ma noi abbiamo anche adesso, io diria, dei nuovi gruppi, io penso a Bozé, par esempio, o a Thesé, etc., o la mixità, vécu'e d'un'altra maniera, joue un rôle molto importante. E, mi sembra, lì c'è un critere di nouveauté continuamente a discerne, perché questa mixità, anche la mixità sociale, sono ovviamente una bella image dell'hom e della fama creata all'image e alla ressemblanza di Dio. L'ocumminismo, un altro critere, delle comunità ecumeniche, delle vie consacrere, che emerge, la fraternità tra le comunità catholiche, delle comunità lutharieniche, delle comunità orthodoxe, c'è anche un elemento nuovo, e, a mio avvis, che mi sembrava tutto a fatto nella linea del Concile Vatican II, le grande orientazione, e c'è normale che la vita consacrere si adatta, e c'è anche un laboratorio dove già molti cose che sono passate, o, io diria, le fraternità, con i monastrii bouddhiche, eccetera. Quindi, il y a un tas di cose nuove che nasce qui, io penso anche a delle comunità che hanno in loro cuore delle persone, delle persone, delle fama e delle fama consacrere, e d'autres, che sono laiche, e c'è una sorta di cohabita, di una nuova maniera che si è in generale, e che ha un effetto missionario in l'Eglise, e di evangelizzazione, tutto a fatto essenziale. Voilà, il me sembra, quindi, che noi abbiamo veramente a ne pas, come dice la prima letter al Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit», la prima recommandazione dell'apotre Paul in il primo testo del Nouveo Testamento che ci si è adressato, ma discerne ciò che è bene e ciò che è bene, e quindi, a questo momento, ovviamente, un certo numero di critiche, io diria, di sensi umano, è molto importante, ciò che rischiamo sempre di passare al suu, al fondo di ciò che è risonabile, ma il risonabile è un critere molto importante, il critere della durata, c'è sempre il y a delle congregazioni o dei gruppi che commencenti a nuovo, e si chiede come si va a durare, come si va a passare d'una generazione a un'altra spesso c'è delle crisi a questo momento che si produiscono oggi è molto importante anche che nella vita religiosa, e che si vive molto fortemente già che le acquis delle scienze umane sono bene anche rispettate quindi tutto ciò che è risonabile fa parte anche nella nostra iglesia dei criteri di discernimento e purtroppo, io vorrei termine per questo c'è qualcosa di una folia in la vita religiosa, io penso in la vita consacrata tutto court, è la folia della croix, è stato evo anche questo mattino avete molti sagesi nel mondo, dice Saint Paul, ma parmi voi, il y a delle persone di tutte e in ultima stanza, ciò che conta, è questo amore del Cristo, son interiorizzazione, al punto che noi puissiamo dire un giorno tutti ce n'è più me che vive, l'art di morire, ce n'è più me che vive, ma è il Cristo che vive in me e in noi possiamo dare ancora tempo alle domande? Ne avremo altri tre, se i relatori le accettano in spagnolo, per il padre Miguel Márquez, il Papa ci ha insistito in che come consagrados abbiamo bisogno di despertar il mondo con la profecia, secondo voi, come possiamo farlo a la tradizione dell'Istituto e della Iglesia? Grazie. Cosa podemos despertar al mondo sendo fieles a la nostra... Es la conjugazione profecia-tradizione, la profecia según la tradizione dell'Istituto e della Iglesia Cosa se conjuga la profecia e la tradizione, come despertar al mondo siendo fieles a nuestras raíces e a la vez siendo testimonio vivo hoy Io credo che la esperienza di Dio, quando uno escucha a Dio in suo corazón e lea a sus fundadores, a sus maestros, lo che tiene che ir facendo è come traduzendo in sua propria vita, vivendo in sua propria historia, quello che i fundatori vivieron di una forma e lui deve vivere in esa esperienza nuova di Dio e traduzirlo in sus propias parole e transmitirlo con sua verità, con sua sincerità, con quello che brota di cada persona siendo fiel a la tua manera natural, sencilla e sincera di transmitirlo. Io credo che non hai che inventarsi parole, non hai che trattare di imitar a los fundadores a lo mejor dico una barbarità, a los fundadores, io non credo che tenga che imitar a San Juan della Cruz, tengo che leerle, tengo che comprender la esperienza, io non credo che Santa Teresa me diga che haga lo che ella hizo, mi segnala con il dedo a mia propria esperienza e mi dice che ricorra un cammino che mi arriesgue a creer, a confiar in il Signore e a escucharle in il corazón di mia verità, mi invita e mi despierta, me quema il corazón, me quema las plantas de los pies, pero me dice, escúchale en tu corazón e tradúcelo en las palabras que broten de ti con sinceridad. Io credo che qualcuno di noi siente quando hai una palabra che brota di si e che percebe che è una palabra che le fa sentirse verità, che te fa sentirte come centrato dentro di ti. Dice Thomas Merton che hai molti religiosi che non arriveranno a essere santos come molti poeti che non arriveranno a essere verità perché si passano la vita imitando i miei cose dei altri o i poemi di altri. Necessitiamo la humildad di descubrire che è lo che Dio ci chiede, non sia che le demos a Dio ci chiede lo che non ci chiede. Quindi, despertar al mondo io credo che è quando una persona vive enamorata del Signore, quando ti enamoras del Signore, quando ti deixas quando ti deixas fare esperienza dolorosa, esperienza di crescimento, Dio va a ponere in tuo corazon le parole. Hai un anciano sacerdote che mi encontrei in Bolivia hace poco che arrastra a las masas, arrastra a muchos jovenes en Potosí, un sacerdote anciano español que vive allí e les habla con pasión, es un anciano, habla desde el amor, habla desde el corazón. Io sono carmelita perché mi encontrei una comunità di carmelitas matusalenicos, anciano, che erano hombres sencillos e alegres. Io ho tenia 15 anni e mi conmovieron, andava in altri deporti che non era la espiritualità, mi conmoviò sua alegria. mi hanno parlato in sua ancianità di una cosa che per mi tenia frescura, tenia vita. Hai gente che tiene chispa in gli occhi e tiene 90 anni. Tambien hai jovenes che hanno 15 anni e sono jubilati. Io credo molto in questo, che la verità di una persona quando fa il cammino di essere autentico, di essere verdadero, di direle a Dio, quiero seguirte dove tu quieras. Esa persona va generando dentro di si una palabra che los demás escuchen, perché se nota in sus ojos, in su amor, in su pasión, me parece. Y no hace falta che sepas el lenguaje de los jóvenes. Sabes el lenguaje, si sabes algo del amor. Grazie. Grazie. La prossima domanda. Grazie. Craftella. So, this question was in English for Mardra Ignazia or Father Miguel. I come from an institute which used to be organized much more like an enclosed institute till the mid 1900s, the lah century. After Vatican II there was a big change It takes time to develop an integrated way of religious life Apostolate and internal spiritual life There is so much change in our everyday life practice at present We live a very hectic life Should we stop or reduce some activities In order to gain time and inner space of mind and heart To find new ways of contemplation in action for today Is there any other way to lead a real new life as a religious? Un poema È una bellissima domanda perché porta a dare più spessore all'affermazione che ho accennato nel mio intervento Sull'unità fondamentale della vita religiosa Al di là delle distinzioni tra vita contemplativa e vita attiva Questo istituto che nel tempo viene a prendere un ordinamento più attivo, più operoso Dopo il concilio Vaticano II Quindi più aperto a una dimensione di missione, di apostolato Come interferisce, come sovverte e come rigenera l'ispirazione originale dell'istituto? Qui dice che dovremmo ridurre alcune attività per avere più tempo Per trovare nuove modalità di vivere la contemplazione Non è un problema di più o di meno È il problema della forma fondamentale di un'esperienza spirituale Da maturare personalmente e come comunità Al cambiamento di equilibri tra le cose, le varie pratiche Tutte le pratiche della fede cooperano a una maturazione dell'esperienza di Dio Quanto più le pratiche della fede si allontanano dalla forma tradizionale Cosiddetta contemplativa Tanto più è forte lo sforzo richiesto di approfondirne e dilatarne la qualità contemplativa Quindi i nuovi equilibri andranno fatti con un attento discernimento Di che cosa si fa quando si opera Che cosa si fa quando si agisce per gli altri Per compiere un'opera per gli altri E come il vissuto spirituale delle persone, della comunità Nel suo insieme Attraverso questi nuovi equilibri maturano un'esperienza di Dio Sicuramente le comunità evolvono Sia per i tempi Qui si parla di un cambiamento in seguito al Vaticano II Anche per noi, per esempio, il Vaticano II Per la nostra comunità monastica Ha segnato un'apertura di prospettive nuove La percezione che la vita monastica Ha una dimensione di ospitalità Proprio per il suo modo di esserci Per la sua stessa qualità di vita Claustrale, diciamo, tra virgolette Il claustrum vero Il claustrum organizzato e articolato In base all'esperienza della fede È un grembo, non è un recinzione E quindi ogni istituto deve verificare la qualità del suo vissuto Più che cambiare proporzioni materiali Delle varie attività È un discernimento molto attento Che presuppone il discernimento del vissuto Delle singole persone E anche poi degli equilibri comunitari Dei punti di sofferenza Dei punti di conflitto Dei punti di tensione Con l'interazione con l'ambiente circostante Lì è il luogo del discernimento Della qualità spirituale della vita Della nuova vita Che si va formando Bene Siamo giunti alla conclusione Di questo colloquio E veramente ringraziamo di cuore I relatori Ringraziamo di cuore Padre Christophe Teobald Ringraziamo Con altrettanta gioia Maria Ignazio Angelini E Miguel Marco Ezcaglie Perché penso Abbiano disegnato Veramente un ideario Affondamento della nostra vita consacrata Ma un ideario Ma un ideario che è esperienziale Hanno parlato dell'esperienza E hanno parlato dall'esperienza Di vite, di consacrate Nel monachesimo Nella vita conventuale E nella vita attiva Religiosa apostolica Quindi ringraziamo di cuore E ringraziamo con un applauso Grazie a voi Mentre accompagniamo con affetto cordiale Veramente i nostri relatori E le nostre guide Della ricca mattinata Del primo pomeriggio Diamo inizio Alla quarta sessione Di questa giornata Laddove andremo A coniugare Questo ideario Disegnato Appunto da fondamenti E da esperienza Con il lungo cammino Che la vita consacrata Ha compiuto In cinquant'anni Oltre ormai cinquant'anni Dal Concilio Vaticano II E' un cammino Lungo E nel medesimo tempo Breve Una stagione ricca Di entusiasmo Di esperienze Di riflessione teologica E anche di accompagnamento vigile Della Chiesa Attraverso il nostro di Castero Con un ricco Magistero Che pur considerando Il rinnovamento E l'adattamento Delle strutture Come due aspetti Non separabili Della medesima realtà Ha assegnato Al rinnovamento spirituale Una preeminenza Ed una funzione Ispiratrice E direttrice Della famosa Renovazio Allora Possiamo dire che Come ogni cammino Abbiamo da annotare Anche lentezze Laddove non si parli Di stasi Di battute d'arresto Di inversioni di marcia Addirittura di blocchi Nasce qui Sempre attuale Il coraggio Nello spirito Di cammini Che vanno portati A conversione E questa Proprio La tematica Di cui Ci parlerà Monsignor Cosè Rodrigue Scarbaglio Segretario Del nostro di Castero E Eccellenza Anche se la conoscono tutti Io voglio dire qualcosa Su di lei Perché Veniamo da ogni parte Del mondo È entrato Nell'ordine Dei frati minori Professando i primi voti Nel 71 La professione Dei voti Solenni Nel 73 E cosa molto bella Studia Sacra Scrittura Al Pontificio Istituto Biblico Di Roma E teologia biblica A Gerusalemme Dove viene ordinato Sacerdote Ha una lunga carriera Come docente E come formatore Ecco perché poi Quest'anima formativa Di Monsignor Carbaglio Che viene sempre In superficie In ogni Anche in questo Anno L'animazione Di quest'anno È stato anche formativo Viene eletto Definitore Generale Dell'Ordine Nel 97 E il 5 giugno Del 2003 È eletto Ministro Generale Dell'Ordine Dei Frati Minori E il diciannovesimo Centodiciannovesimo Successore Di San Francesco Membro Della Congregazione Per l'Evangelizzazione Dei Popoli Per gli istituti Di vita consacrata E le società Di vita apostolica Ha partecipato Ai sinodi Dei Vescovi Dal Del 2005 2008 2012 E a quello Per il Medio Oriente Nel 2010 È autore Di numerosi Articoli Sulla vita Consacrata E religiosa E sulla teologia Pastorale Sulla sacra scrittura E la spiritualità Francescana E il 6 aprile Del 2013 Papa Francesco Lo nomina Segretario Nella nostra Congregazione Ecco Grazie Eccellenza E buona conversazione A lei Grazie Per i traduttori Che stanno in qualche parte Non so dove Ma certamente Loro ci vedono E ci ascoltano Dico che parlerò In spagnolo E poi Poi Dico che non seguirei il testo Perché Vi risparmio la siesta Io ho scritto 23 pagine Quindi non le leggerò Parlerò a flash Che come poi Mi piace A me Antes Di empezar Mi passaron Una nota A la qual Doi lectura Nos dicen Desde Madrid Que il padre Jaime Bonet Bonet Fundador De la fraternità Misionera Verbundey Sta moi grave Quizà Cercano Al momento De pasar Al padre Los miembros De Verbundey Presentes En el aula Pablo VI Piden Una oración Por él Guardamos Unos segundos De silencio Y cada uno Pide Por El padre Jaime Bonet Bonet Por La fraternità Misionera Verbundey E por Por Aquellos Religiosos Y religiosas Consagrados Y consagradas Que están En dificultad Bien La vida consagrada A 50 años De la lumen gentium E perfecti caritatis Caminos De conversión Y de futuro Comienzo citando A Juan Pablo II Quien Hablando Del concilio Vaticano II Afirma Que es La gracia De la que se benefició La iglesia Del siglo XX Y nuestro amado Papa Francisco Nos dice Que el Vaticano II Es Una hermosa obra Del Espíritu Santo Quiero subrayar esto Para que no quepa duda Que los consagrados Como del resto Toda la iglesia Tenemos que caminar Tenemos que hacer camino Siguiendo las indicaciones Del Vaticano II Juan Pablo II Afirmó De este concilio Que es La brújula Que debe orientar La iglesia Del siglo XXI La vida consagrada No puede hacer A menos A no ser Que quiera Estar O situarse Fuera de la iglesia Fuera de la iglesia Y tengo que decir Desde mi experiencia En estos años Que jamás Hubiera imaginado Que se pongan Tantas Dudas Sobre la bondad Del Vaticano II Jamás Me lo hubiera imaginado Por eso Quiero dejar bien claro Que la vida consagrada No puede caminar Al margen De las indicaciones Del Vaticano II Una gracia Dijo Juan Pablo II Una obra del espíritu Señaló El Papa Francisco Que no Que llevaron A una renovación De la vida De la iglesia Y de la vida Consagrada Una renovación Que no se improvisó Esa renovación Nació De un impulso Del espíritu Que respondía A una necesidad Sentida Por los consagrados Sentida por la iglesia Y entonces Nos preguntamos ¿Cuál es La vida consagrada Que encontró El Vaticano II? Yo nací en el 53 Entré en el seminario Menor En el 65 Por tanto No puedo decir Que sepa Por experiencia La vida Que encontró El Vaticano II La vida consagrada Pero leyendo Algunos estudios Y aquí Cito con gusto Porque ofrece Una visión Completa De conjunto La obra Del Padre Aquilino Bocos Merino Un raconto De los espíritus Yo tengo La versión italiana La vida religiosa En el postconcilio Publicado En el 2013 Podría Servirnos Para darnos cuenta De la vida consagrada Que encontró El Vaticano II Muy en síntesis Podría decir Que la vida consagrada Que encontró El Vaticano II Tenía Signos Contradictorios Por una parte Aparentemente Todo andaba Muy bien Los consagrados Teníamos Muchas vocaciones Los consagrados Teníamos Grandes teólogos Que tal vez Hoy no tenemos Del Ibag Congar Ranner Schielebex Danielu Tilar Los consagrados Teníamos Grandes obras De todo tipo Teníamos Un buen Reconocimiento Social Y en nuestras Comunidades Había una Observancia Que tal vez Hoy Muchos Echan de menos Pero Aquí viene La contradicción A pesar de que Todo parecía Que marchaba Bien Había un malestar Y Crecía la convicción De que algo Tenía que cambiar Tal vez No se sabía Qué Pero algo Tenía que cambiar Y llegó Y llegó Y llegó el perfecte Caritatis Y antes La Lumen Gentium Dos documentos A los cuales La vida De la iglesia Pero sobre todo La vida Consagrada Le debe Mucho Y que yo A consejo De volver A leerlos Y de volver A reflexionar Sobre ellos A mí Muchas veces Me preguntan ¿Usted cree Que es necesario Un Vaticano Tercero? Le digo No Lo que es necesario Es aplicar El Vaticano Segundo Y para eso Hay que volver A los documentos Y gracias A la Lumen Gentium La iglesia O mejor dicho Perdón La vida Consagrada Tiene su lugar En la iglesia Eran muchos Los que En aquel momento Se preguntaban Bueno Y que lugar Tiene la vida Consagrada En la iglesia Pues la Lumen Gentium Da una respuesta La vida Consagrada Es una Realidad De la iglesia Y en la iglesia Y forma Parte Del pueblo De Dios Donde Hay jerarquía Y hay carisma Por eso Hoy Hablamos Con fuerza Y convicción De la Complementariedad Y no solo De la Coesencialidad De los dones Jerárquicos Y de los dones Carismáticos Sin que haya Oposición Y que no quiere Decir Que en la jerarquía No haya dones Carismáticos Y llegó El perfecte Caritatis Y ahí Nos habla De algunas Fidelidades Que la vida Consagrada No puede Olvidar Fidelidad A Cristo Fidelidad Al Evangelio Fidelidad Al propio Carisma Fidelidad Al hombre De hoy Y nos da Dos criterios Importantes De profunda Renovación La adaptación A las nuevas Situaciones De los tiempos La lectura De los signos De los tiempos Y el primado De la renovación Espiritual Entonces ¿Cuál es la valoración Que podemos hacer Del Vaticano Segundo? Podemos decir Y ya lo indicó La moderadora Sornicla Que ha habido Un poco De todo En estos 50 años Ha habido Altibajos Lo cierto es Que también Ha habido Muchos Aciertos Y así La iglesia Y la vida Consagrada Sobre todo Ha intentado En este Tiempo Responder A ciertos Desafíos Al desafío De la pobreza Responde Con la opción Por los pobres Frente al desafío Del secularismo Evangelica Testificatio Frente A una vida Comunitaria Marcada Por la observancia Vida fraterna En comunidad Frente A una autoridad Más centrada En las estructuras Una autoridad Al servicio Del evangelio Del carisma Y de las personas Y frente a una Espiritualidad Intimista Una espiritualidad De comunión Una espiritualidad Misionera Ha habido De todo Y Juan Pablo II Invita a Consecrata Que también Recomiendo Leer Contiene elementos Todavía muy Válidos Invita a Consecrata Dice Que ha habido Experiencias Que incluso Movidas O llevadas A cabo Con gran Generosidad No han sido Coronadas Por resultados Positivos Pero no hay Que negar Que los Consagrados Hemos sido El colectivo Si no El que más Ciertamente Entre los que más En serio Se han comprometido En la tarea De la renovación Y en ese compromiso De reproducir Eso es lo que nos pide La iglesia Reproducir Estoy leyendo Vita a Consecrata Con valor La audacia Hoy nuestro prefecto Nos recordaba Una sexta palabra Corallo Valentía Audacia Y creo que era el padre Miguel Que nos decía Que sin audacia Sin riesgo No llegaremos A ninguna parte Pues bien Reproducir con valor La audacia La creatividad Y la santidad De nuestros Fundadores Y fundadoras Como respuesta A los signos De los tiempos Por eso No podemos Si no Hacer un balance Positivo Del camino Que la vida Consagrada Ha hecho En estos 50 años Y para sintetizar Y Hacerme Voy Quiero hacerme Eco Unas palabras De Benedicto XVI Que sin duda Tiene mucha más autoridad Que yo Dice El Papa Emérito 40 años Después Son Palabras Que pronunció Cuando se cumplían 40 años De la clausura Del Vaticano II 40 años Después del concilio Podemos constatar Que lo positivo Es más grande Y más vivo De lo que pudiera Parecer En la agitación De los años Cercanos Al 1968 Hoy Vemos Que la buena semilla A pesar de Desarrollarse Lentamente Crece Y así Crece También Nuestra Profunda Gratitud Por la obra Del concilio Y ahí Resuena fuerte La última llamada Que nos hizo El Papa Benedicto Antes de Retirarse A la oración Y a la soledad En la homilía Del 2 de febrero Del 2013 Pocos días antes De renunciar Nos dijo El día de la vida Consagrada No os unáis A los profetas De desventuras Que abundan En la iglesia Y en la vida Consagrada Como no Que solo saben Pronunciar una palabra Muerte 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 Tal vez Porque ellos Quiera morir Pues Que se mueran Pero Que nos dejen Vivir A los demás El Papa Juan Pablo II Nos dice Que ante Las dificultades Que se encuentran En este camino No podemos Desanimarnos No podemos Caer en el pesimismo Sino que Hay que Comprometerse Con Nuevo Ímpetu Cosas positivas Cosas negativas Vino nuevo En odres nuevos Vino nuevo En odres viejos Y aquí No es fácil Delimitar Lo que es Un odre nuevo De un odre viejo Yo solo quiero decir Que Nuestro dicasterio Se ocupó De esto En la última Asamblea plenaria Y allí Analizó Sobre todo Tres Campos Donde hemos Descubierto Pues que Hay parte De odre nuevo Y hay parte De odre viejo La autoridad El servicio De la autoridad Y ahí se constató Que hemos caminado Mucho En ver la autoridad Como Algo Fundamental En la vida Consagrada En la medida En que esté Al servicio El Papa Francisco Nos ha recordado Algunas veces Durante este año Que El poder En la iglesia Es servicio Y si no No es Evangelico Y esto Lo que tenemos Que entender Los obispos Los generales Los fundadores Y fundadoras Y todos Los consagrados Servicio Al evangelio En primer lugar Que está Por encima Del propio carisma Aunque suene mal Hoy Miguel Nos recordaba Que él no está aquí Para seguir A San Juan de la Cruz O a Santa Teresa Yo no estoy aquí Para seguir A San Francisco Aunque soy franciscano Y lo amo Estamos aquí Para seguir A Cristo Según Un determinado Carisma Servicio Entonces Al evangelio Al carisma Y a los hermanos Y a las hermanas Por eso Un superior Que no lave Los pies No Ejercerá Nunca El servicio De la autoridad Según En el evangelio Después Hemos Constatado Que ha habido Mucho avance En la autoridad En cuanto a ponerse En discernimiento Y Crear actitudes De discernimiento Yo siempre Yo siempre me gusta Poner el ejemplo De mi abuela O de mi madre Yo soy hijo De campesinos Estas mujeres Yo creo que mi madre Nunca habló De discernimiento Pero lo hacía ¿Saben cómo? Con la criba Y separaba el grino El trigo De la paja Eso es el discernimiento Eso es el discernimiento Separar Lo que viene De Dios Y lo que le es Contrario Bueno Pues la autoridad Tiene que estar Al servicio Del discernimiento Y después Al servicio De construir Fraternidades Por eso La autoridad Hemos constatado Que ha crecido Mucho En cuanto al diálogo La confianza La comunicación Pero hemos Constatado También Que hay muchos elementos Todavía por evangelizar En cuanto al servicio De la autoridad Por ejemplo La búsqueda De poder Que después Lo revestimos Los eclesiásticos Y en esto Pues también Las hermanas Somos maestros A revestir Todo De evangelio Pero Muchas veces Lo que está ausente Es precisamente El evangelio La búsqueda De poder Y para esto No dudamos En hacer Política Pero de la baja De la rastrera Buscar alianzas Todo Para poder Es más Hemos constatado En nuestra congregación Estos años Que hay quien Por mantener El poder No duda En cambiar Las constituciones Para asegurar Que Está en el servicio Así se dice Hasta el día Después de morir Creo Pues sí, sí No Esto Estamos hablando De cosas Yo lo hago así Un poquito Cómico Y un poco Para provocar Pero es así Hemos constatado También Que muchos Superiores Se creen Los amos Los amos De los hermanos Pero con que derecho Con que derecho Y bueno Pues Hemos constatado Al final Que el servicio De la autoridad Necesita ser evangelizado Después lo vamos a ver Como Hemos examinado La formación Y aquí también Hemos dado Muchos pasos Positivos Los hemos encontrado Porque los hay Por ejemplo El camino Que se ha hecho Para dar prioridad A la persona Por ejemplo El esfuerzo Aunque después Diremos Que todavía Es una laguna De poner La formación Permanente Como humus De la formación Inicial Por tanto Como sería bueno Que antes De hablar En nuestras Constituciones De la formación Inicial Hablásemos De la formación Permanente Porque Una provincia Una orden Un instituto Que no Priorice La formación Permanente Se autoengaña Pensando Que tiene Un perfecto Proyecto De Formación Inicial Yo Siempre cuento Una frase Que me persigue Cuando era general Fui Lo voy a decir A Croacia Allí Gracias a Dios Mi orden Tiene muchas vocaciones Ver aquella sala Llena de jóvenes Profesos temporales Daba gusto Y yo Bueno Pues Intenté convencerles De lo que yo creía Que tenía que hacer Y después En el diálogo Un hermano Ausente De los formadores Porque esto es lo que hay que hacer Porque si no No hablan Dice Padre Hablaba así Padre No se preocupe Hoy hacemos Lo que nos dicen Que tenemos que hacer Porque si no Se abre la puerta Y no entramos De nuevo Pero mañana Vamos a hacer Exactamente Lo que ustedes Hacen Un perfecto Proyecto De Deformación Todo junto Permanente E inicial Pero bueno Hemos hecho Algún camino Después también Se ha hecho Camino En formar O intentar Formar Comunidades Formativas Fraternidades Formativas Y se ha caminado Mucho En la formación De formadores Pero también Hemos constatado Muchas lagunas Todavía Por ejemplo En el campo De la formación Permanente No hemos Acertado Con el método Y miren ustedes En formación Sobre los principios Casi todos Estamos de acuerdo Pero algo Está fallando ¿Y qué falla? El método El método La formación No es solo Cuestión De principios Es sobre todo Cuestión De método Para transmitir La belleza De nuestros carismas Después Hemos constatado Los dobles Magisterios El maestro El formador Dice blanco La comunidad Dice negro Y el joven Que es inteligente Pues escogerá Lo que más le convenga Y también Las metodologías Hay muchas Metodologías Que no pueden Ser formativas Sino que son Inradiche Deformativas Y después También hemos visto La vida fraterna En comunidad Y ahí Hemos constatado También Cosas positivas Hoy Hay más libertad Y corresponsabilidad En nuestras comunidades Hoy Pues hay Proyectos Comunitarios Compartidos De vida Y misión Se ha avanzado Mucho En la mística De las comunidades Pero Hemos constatado También Algunos elementos Que necesitan Ser evangelizados Por decirlo Con palabras Del Papa Francisco Que la crítica Los celos Las envidias Las calumnias Los chismes Destruyen Con muchísima Frecuencia La vida fraterna En comunidad Hemos Estamos constatando En el dicasterio Esto nos Llega constantemente Correspondencia Sobre esto La falta De De valores Humanos Entre ellos Por ejemplo La falta De misericordia Ahora que estamos En el año De la misericordia Además Se da mucho La ley del embudo Ancho para mí Estrecho para los demás Ancho para los míos Estrecho para los que Yo creo Que están en contra de mí Después Otra laguna Es la Self Realization La autorrealización Pues tenemos Que recordar Lo que dice Juan Pablo II En Vita Consecrata Que la autorrealización De un religioso Porque Hay otros consagrados Que no tienen La vida comunitaria Pasa Necesariamente Por la vida fraterna En comunidad Yo he sido libre De elegirla Ahora no soy libre De vivirla o no Y después también Hemos constatado Que en la condivisión De bienes Las cosas no caminan No caminan Bien Ahí quedan Tres áreas Que tienen Odres nuevos Odres viejos Caminos de conversión El camino Recorrido Como he dicho Citando a Benedicto XVI Es más positivo Que negativo ¿Y cuál es entonces El problema? Porque el malestar Que había antes Del concilio Yo creo Que lo siga viendo El problema Está en que El vino nuevo Muchas veces Está envasado En odres viejos En odres viejos Por eso El proceso De renovación De la vida consagrada No ha concluido Todavía El nuestro Es un tiempo Propicio Para la conversión Para que la vida consagrada Tenga más vida Y sea más consagrada Y así pueda Despertar el mundo Con la profecía Como ya hemos recordado Varios veces hoy Mi convicción Personal En este campo Es que Ya no basta La reforma O la conversión Personal Siempre necesaria Pero ya no bastan Se necesita Crear Nuevos Odres Es decir Estructuras Que puedan Contener El vino Nuevo De nuestros Carismas De la vida Consagrada En general Crear Nuevos Odres O innovar Odres Existentes Pero que Conservan Su Actualidad Y son Necesarios La vida Consagrada Personalmente Estoy Conventido Que hay que Romper Muchas Vasijas Lo que Le mandó El señor A Jeremías Jeremías 18 4 Había Hecho Una vasija Muy bonita Seguramente Que la estaba Admirando Y seguramente Que Jeremías Estaba El alfarero Perdón Seguramente Que el alfarero Estaba diciendo Que trabajo Más bonito He hecho Soy realmente Bravo Como dicen En italiano Y de repente Le viene la voz Del señor Estrella Esa vasija Contra el suelo Y ahora De los pedazos Haz una nueva Hay que romper Modelos Estructuras Que pongan En peligro El vino Nuevo Y para isto Hace falta Arriesgarse Corallo Valentía Asumir Incluso El riesgo De equivocarnos Los nostros Son tiempos De transición Y de exilio Y aquí Tendremos Que recordar Entonces Los objetivos Del año De la vida Consagrada Que son Los de la iglesia Del tercer milenio La vida Consagrada Necesita Lo hemos dicho Muchas veces Centrarse Concentrarse Y Descentrarse La vida Consagrada Está llamada A entrar Y hacer suyo El misterio Pascual Morir Para vivir Por tanto Romper Para crear O innovar Y sobre todo Está necesitada De dejarse Hacer Hoy Cuando nos hablaban De la contemplación Salía esto Hay que dejarse Hacer Y esto cuesta Porque queremos Ser protagonistas Y en que campos Estamos llamados A trabajar En este momento Que caminos De conversión Pues en primer lugar El campo De la espiritualidad Diría Porque la espiritualidad Es Y será A mi modo de ver El elemento Unificante De la vida Consagrada Pero con algunas Condiciones Porque no toda Espiritualidad Es en mi opinión Es evangélica Es cristiana Y me perdonen Esos juicios Pero yo lo veo Así Será elemento Unificante De la vida Consagrada En la medida En que se viva En constante Actitud De búsqueda De Dios Que no vale Solo para los monjes O monjas Vale Vale para todos Los consagrados Buscar Sabiendo que nunca Lo encontraremos Pero hoy nos han dicho Que lo importante Es caminar No llegar a la meta Eso Será gracia Y será cuando Veremos a Dios Cara a cara Como dice El apóstol Después Estoy convencido Que otra condición Para que la espiritualidad Sea elemento Unificante Es que sea Sólida Perdonen Esto que estoy Por decir Sólida Menos Devocionista Y más Centrada En la palabra En los sacramentos Y al magisterio Y eso que yo Vengo De una familia Muy sencilla Yo mamé Una espiritualidad Muy sencilla Y Esa es la que me mantiene Pero Necesitamos también Al lado de esa Espiritualidad O de esa fe De carbonero También necesitamos Una espiritualidad Sólida Bien Y después Que sea Una espiritualidad Más Encarnada Porque yo creo Que un peligro Es Separar vida De la espiritualidad O Separar la cotidianidad De esos momentos En que parece Que tocamos El quinto cielo Y cuando hablo De espiritualidad Encarnada La definiría Con estas palabras Que sea Unificada Y unificante Que nos haga Al mismo tiempo Hijos de Dios O si queréis Perdón Hijos del cielo E hijos de la tierra Segundo Más dinámica Una espiritualidad Que nos haga Místicos Y profetas A la vez Y una espiritualidad Relaciones La vida consagrada Pues con el mundo Con los otros consagrados Por supuesto Con los obispos Los pastores Creo que el principio Que tenemos que mantener Es Pasar De la absorción Y de la independencia A la comunión Y aquí Vuelvo a citar Ese principio De la coesencialidad Ni absorber E al mismo tiempo Tampoco ser independientes Que comporta esto En primer lugar En relación con la iglesia Los consagrados Tenemos que recordar Que esta La vida consagrada Nació En Con Y para la iglesia En Con Y para la iglesia Universal Pero En una iglesia Particular Sería interesante Que leyésemos Lo que El entonces Cardenal Bergoglio Dijo Durante El sínodo De la vida consagrada Al que participó Él Siendo ya Obispo Creo que era Obispo auxiliar En Buenos Aires Pasar Pasar También De una Misión Que Consideramos Particular Nuestra A una Misión Compartida A una Misión De iglesia Eso En relación La vida Consagrada Con la iglesia La iglesia Y particularmente Los obispos En relación Con la vida Consagrada Yo le pediría Sencillamente Lo que pide El Papa Francisco En la Carta apostólica A los consagrados Que acojan Cordialmente La vida Consagrada La vida Consagrada Es una Obra De la Iglesia Y para la Iglesia Y en la Iglesia Es un Don A la Iglesia Lo tiene Recordado Mil veces El Papa Bergoglio Y por favor Que no valoren Solo La vida Consagrada Por lo que Hace Tantos Hospitales Tantas Escuelas Si no Por lo que Es Porque si no Llegamos Esto es Un ejemplo Concreto Un obispo De este Mundo Llamó A una Comunidad Contemplativa A su Diócesis Las hermanas Después del discernimiento Fueron Cambian Al obispo Viene uno Nuevo Y le dice Hermanas Yo aquí Lo que necesito Catequistas No parásitos Y las hermanas Muy bien Hecho Le dijeron Señor obispo Nos da 15 días Y nos Vamos Claro Porque es No es Respetar La vida Consagrada Por lo que Es Y en las Visitas Ad Límina Estamos Constatando Que aquí Hay un Poquito Esa Confusión Bien Después La vida Consagrada Tiene que Crecer Hoy lo Decía Muy bien Su Eminencia El Prefecto En Comunión Que se Vive En Círculos Concéntricos No Podemos Seguir Pensando Solo En Mi Instituto En Mi Orden En Mi Comunidad En Mi Familia Carismática De la Comunidad Local Se Pasa A la Conciencia De Orden O De Instituto Y de la Conciencia De Orden O Instituto A la De La Familia Carismática Y de La Familia Carismática Alargamos Las Manos Y el Corazón A Todos Los Carismas Y En Relación Con El Mundo Hay Que Verlo En Esa Doble Versión En Que Aparece En Nuevo Testamento Ciertamente Tiene Conotaciones Negativas Pero También Las Tiene Positivas Atención A Tener Solo Una Visión Digamos Pecaminosa Del Mundo Diabólica Del Mundo Porque Entonces Donde Queda Aquello Que Tanto Amó Dios Al Mundo Que Le Entregó A Su Hijo Por Tanto Una Visión Evangélica Del Mundo Y También De La Sospecha Hacia Los Movimientos En Favor De Los Hombres A Una Colaboración Estrecha Con Ellos Por Tanto Yo Creo Que Hay Que Practicar La Espiritualidad De Hospitalidad De Acogida Del Otro Y De Lo Otro Hay Que Cultivar La Espiritualidad De La Compasión Y Abrir Un Camino Marcado Por El Diálogo La Comunión Y La Integración Otro Campo En Que Hay Que Seguir Trabajando Y En Que Tenemos Que Convertirnos Es La Vida Fraterna En Comunidad El Futuro De La Vida Consagrada Hablo Aquí Sobre Todo De Los Religiosos Y Religiosas Y De Los Institutos Las Sociedades De Vida Apostólica E Institutos Incluso Seculares Que Como Algo Fuerte En Su Carisma Pasa Necesariamente Por La Cálidad De Las Relaciones Entonces Las Comunidades Tienen Que Ser Espacios De Relación Y Esto Será Posible Si En Ellas Se Viven Algunos Elementos Que Ya Destacaba Un Documento Bellísimo De Nuestra Congregación Vida Fraterna En Comunidad Tal Es Como El Calor Humano Si No Hay Humanidad No Puede Haber Santidad Yo Estoy Convencido Y Los Grandes Santos Fueron Profundamente Humanos Perdonen Si Le Cito Un Ejemplo De Mi Fundador La Comunidad La Fraternidad De Los Hermanos Estaba Ayunando Y Francisco Ayunaba A Mayores Todavía Dormían Todos En Un Salón Corrido Como Era Normal En Aquel Momento Y Se Ve Que El Estómago De Algún Hermano Molestaba Por El Ruido Que Hacía Porque Tenía Hambre Francisco Se Levanta Le Dice Yo No Recuerdo El Nombre Del Hermano Antonio Pedro José Ven Tengo Hambre Ven Conmigo Para Comer Algo Fíjense Ustedes Una Humanidad Así O sea Que Para No Humillar Al Otro Que Le Pidiese De Comer Él Dice Que Tiene Hambre Es Ponerse En El Vestido Del Otro En La Carne Del Otro Calor Humano Misericordia Cualquiera Que Sea El Pecado Que Ha Cometido Un Hermano Una Hermana Si Te Pide Perdón Ofréceselo Y Si No Te Lo Pide Perdón Si Te Lo Pide Dáselo Y Si No Te Lo Pide Ofréceselo Esto También Lo Escribió Un Fundador Amistad Amistad Amistades Sanas Pero Amistad Afecto Sano Pero Afecto Autenticidad Yo Creo Que La Crisis De La Vida Consagrada Muchas Veces No Está En Número Está En La Falta De Verdad Está En La No Autenticidad Es Crisis De Verdad Hay Que Trabajar Mucho Esto Aprecio Recíproco Respeto Hacia La Intimidad Del Otro Aquí Si Que Habría Porque La Congregación Nos Llega De Todo No Se Respeta La Privacy Del Hermano Y A Esto No Hay Derecho Ni Siquiera Los Fundadores O Fundadoras Estoy Hablando De Ejemplos Muy Concretos Que No Puedo Poner Más Concretos Porque Si No Se Dan Cuenta Porque Aquí Puede Haber Gente Pero Intelligent Y Bus Pauca Después Hay Que Seguir Trabajando En La Vida Fraterna A Nivel De Estructuras Estructuras Flexibles Estructuras Al Servicio A Persona Y Se Van Haciendo En La Medida En Que Sean Necesarias Y Y Cuando Una Estructura Se Obsoleta Se Prescinde Y No Pasa Nada Hay Que Seguir Convirtiéndose En La Vida Fraterna Para Llegar A Un Proyecto Común De Vida Y Misión Pues Solo Así Solo Así Evitaremos En Gran Parte El Individualismo Y Hay Que Trabajar Las Fraternidades Y Comunidades Para Que Tengan Una Mística Es Es decir Para Que Se Sepa Por Que Estamos Porque A veces Estamos Tal Vez Porque Cavar Me Duele La Espalda Pedir Limosna Me Da Vergüenza Entonces Dentro Tengo Lo Que Necesito Para Que Voy A Salir No Eso No Es Tener Mística Yo Lo Que Pediría En Estos Momentos Es Sobre Todo Trabajar La Humanidad Que Nuestras Vidas Comunitarias Y Fraternas Sean De Personas Expertas En Humanidad Yo Recuerdo Muy Bien El Discurso Aparentemente Improvisado Del Clarisas Del Proto Monasterio Un Asis Digo Aparentemente Improvisado Yo creo Que sabía Bien Lo Que Decía Por Supuesto Que Les Pidió A Las Clarisas A Un Cierto Momento Dijo Ahora Voy A Citar Vuestra Concorrente No Es Fácil Traducir Esto Porque No Es Opositora No Pero Bueno Y A Quien Cita A Santa Teresa De Jesús Que Recomienda Un Cierto Momento No Nos Vamos A Largar En Esto Que Si Hay Una Hermana Por Ahí Que Tiene Más Los Pies En Las Nubes Que Dadle Un Buen Filete Dadle Un Buen Filete Humanidad 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 Y Desde Ahí Santos Y Santas Otro Campo Que Hay Que Trabajar La Misión La Misión Y Aquí Ha Habido Un Cambio Muy Grande Sabemos Hoy Que La Misión Hace A La Iglesia Y Hace A La Vida Consagrada No Es La Iglesia La Que Hace La Misión No Es La Vida Consagrada La Que Hace La Misión Por Eso Podemos Afirmar Que La Misión Es El Modo De Ser De La Iglesia Y De La Vida Consagrada Y Esto Exige Muchas Cosas Entre Otras Caminar Al Ritmo Del Espíritu Así Que Preparemos No No Sé El Espíritu No Duerme Para Salir De Uno Mismo De Nuestra Autorreferencialidad De Nuestras Pequeñas Peleas Dice El Papa En La Carta Apostólica A Los Consagrados E Ir 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 Donde Donde Sea Necesaria La Luz Del Evangelio Porque Esa Periferia Nos Dice El Papa En Evangelii Gaudium La Misión Está Exigiendo Asumir El Diálogo Como Método No Como Estrategia Para Ganar Adeptos No Como Método Está Pidiendo En estos Momentos Con Fuerza Una Opción Por Los Últimos Por El Desecho Humano Está Pidiendo Que Hagamos Una Reubicación De Nuestra Obras Está Pidiendo Que La Vida Consagrada Se Piense A Si Misma Desde La Misión Y Que Se Deje Cuestionar Por Tres Características Que Ciertamente Son Típicas De Nuestra Cultura La Globalización El Secularismo Y El Pluralismo Cultural Y Religioso Otra Área Donde Tenemos Que Trabajar Y Duro Y Es Camino De Conversión Es La Formación Que Es Un Proceso Muy Complejo Porque Porque Tenemos Que Que Poner De Acuerdo A Dios Que Es El Primer Formador Y Esto No Lo Olviden Los Formadores Al Sujeto En Formación A La Fraternidad O Comunidad Formativa Y Al Formador Yo Creo Que En El Campo De Formación Seguimos Sin Tener Claro Que Entendemos Por Formación Y El Papa Francisco A los Superiores Generales Le Dijo Atención A no Formar Monstruos Cabezas Enormes Llenas De No Sé Cuantas Cosas Y Corazones Raquíticos Esos Son Monstruos Si Queremos Monstruos Sigamos Hay Que Clarificar Que Entendemos Por Formación Y Yo Sigo Pensando Que Es Muy Acertada Y Apropiada Y Actual La Definición Que Da Juan Pablo Segundo En Vita Consecrata En Número 65 Por favor Lean 65 Que Habla De La Formación En General Y 66 Que Habla De Los Formadores En Pocas Palabras Es La Transformación De La Persona En Que En Cristo Asimilar Progresivamente Los Sentimientos De Cristo Hacia El Padre Palabras Textuales Del Papa Y Después La Formación Inicial Tenemos Que Trabajar El Dice Discernimiento Hoy Como no Tenemos Vocaciones O No Tenemos Las Que Quisiéramos Oves Et Boves Et Omnia Pécora Y Después Nos Lamentamos Discernimiento Caminar La Tampoco 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 Pensemos Que Por Tener Muchos Títulos Ya Uno Es Formador A Uno El Que Les Está Hablando De Broma Pero Algo Hay Siempre De Verdad Cuando Me Nombraron Maestro En Novice Novice Dice Juan Pablo Segundo Número 66 De Vita Consagrata Que Sea Capaz De Transmitir La Belleza Del Propio Carisma Por Tanto Que Sea Un Formador Centrado En La Vocación Porque Si No Transmite Crisis Y Se Irá El Formador Y Llevará Con Él A Todos Los Formandos Y Por supuesto Hay Que Pensar La Formación Como Formación Permanente Continua Termina Hoy Hay Tres Grupos Fundamentales A La Hora De Enjuiciar Pues La Situación Actual De La Vida Consagrada Los Profetas De Desventura Ya He Dicho Muerte 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 Segundo Aquellos Que Ven Signos De Vida Donde No Los Hay Ilusionistas Todo Va Bien Muy Bien Pues Ala Cuando Te Des Con Las Narices En El Suelo Despertarás De Tu Letargo Y Tercero Aquellos Que Ven Los Signos De Vida Y Los Signos De Muerte Estamos Viviendo Yo lo he Dicho Muchas Veces Un Momento De Crisis De Noche Oscura Y De Invierno Pero No Le Demos A Esto Un Significado Negativo Crisis Hay Que Tomar Decisiones Crisis En Griego Significa Momento Propicio Para Tomar Decisiones Espero Que Sean Las Correctas Noche Oscura Nos Han Enseñado A Los Místicos Son Momentos De Prueba Son Momentos De Catarsis Momentos De Poda Pero Sin La Prueba Sin La Poda El Árbol Se Muere Y Caos Algo Se Está Muriendo Ya Se Ha Muerto Pero Detrás Del Caos Viene La Nueva Creación En Este Momento Creo Que La Vida Consagrada Tiene Que Dejarse Rehacer Por Dios La Vida Consagrada Tiene Que Mirar A Las Otras Vocaciones En La Iglesia La Vida Consagrada Tiene Que De Dejarse Evangelizar Nos Dicen Que Lázaro Al Grito De Jesús Se Levantó Pero Se Ve Que No Podía Caminar Por Que Porque Estaba Atado Por Las Vendas Y Que Dice Jesús Desatadlo Y Dejadle Caminar Termino Diciendo Que Yo Personalmente Creo Que La Vida Consagrada Tiene Tiene También Muchos Vendajes Que Impiden Que La Vida Que Tenemos Dentro Se Manifiesta Al Exterior Por Eso Termino Haciendome Eco De la frase De Jesús Vida Consagrada Quítate La Piedra Que Tienes Encima Rompe Las Vendas Y Camina Muchas Gracias Gracias di processi, di cammini, di difficoltà, di fermo, di ferite. Ma cosa ci ha detto Sua Eccellenza e che cosa ci ha detto Sua Eminenza questa mattina? Parlando dalla loro esperienza, cioè parlando dall'intelligenza e dal cuore, siamo in un momento propizio, siamo nel tempo favorevole, è un kairos, proprio perché ci stiamo accorgendo di essere in crisi, benedetta sia la crisi. Perché la crisi è il momento in cui uno taglia, in cui uno guarda se stesso nella verità e ci si rende conto. Allora io vorrei sintetizzare in due sole immagini questa ricchezza anche di questa giornata. E riprendo da quanto ha detto Sua Eccellenza, noi non possiamo tenere, conservare il vino nuovo della grazia, il vino nuovo di Gesù Cristo, il vino nuovo che fiorisce nella vita consacrata ancora oggi, i notri vecchi, perché si romperebbero e andrebbe perduto il vino. Allora prima grande azione, frantumare, rompere, avere il coraggio profetico di farlo. E là dove rompere significa il potere, dove rompere significa l'economia che stringe e diventa l'unico giudizio, l'unico punto di scendimento di tanti istituti. Là dove rompere significa veramente allargare gli spazi e guardare oltre. Ma c'è una seconda azione, creare. Creare questi otri nuovi. E gli otri nuovi non possiamo crearli noi, perché noi possiamo costruire ma non creare. Ecco tutta la grande ricchezza che ci è venuta dalla fondazione di questa mattina e lo spirito che crea. Ma i nostri cuori devono essere aperti come otri nuovi, perché lo spirito possa creare. In che cosa dobbiamo creare, fratelli e sorelle, dobbiamo creare sicuramente nell'ascolto della parola, nell'attitudine della bellezza, nell'attitudine contemplativa. Dobbiamo creare sull'umanum, sulla relazionalità. C'è un film bellissimo con cui voglio chiudere questo stare insieme di questa quarta sessione, che si chiama I cento chiodi. È del testamento di un grande regista. Lui dice, c'è più verità in uno sguardo d'amore tra un fratello e una sorella, tra un amico e un'amica, tra un padre ed una madre, che non in tutti i libri e in tutte le biblioteche del mondo. Ed è quello sguardo relazionale di cui parlava padre Theobald questa mattina. È lo sguardo accogliente e ospitale di Cristo, che è capace di creare cose nuove e ci mette nel circolo trinitario della relazione. Grazie. Grazie. Ora prendiamo 15 minuti di intervallo e ascoltiamo gli avvisi di Serenella. Abbiamo pochi minuti, però in questo momento di pausa chiediamo a chi voglia di proporre le proprie domande a Sua Eccellenza, che ha presentato la propria relazione. Vi chiediamo di concentrare le domande sulla relazione ascoltata. Tutti i suggerimenti, i problemi o le questioni particolari possono essere presentate nei desk che sono lì nell'atrio. Le domande che siano al redatore su quello che abbiamo ascoltato. Grazie. Ci rivediamo tra un quarto d'ora. Per mantenere viva io, non si dormono.